Per ora abbiamo preso il Pulpingla, poi abbiamo preso Handelig, ma il mio preferito è questo. Che cos'è? E' il PropMat, guarda qua, il PropMat. Ma che hai preso, scusa? Amore ho sostituito il Parkingla, che era un secchio di tessuto diciamo, con questo, imbimini, il Nat Ghibba, questo è il top, il Nat Ghibba, infatti sto in tinta col cuscino top, era lei che diceva, no ma non lo prendere perché non c'entra, non lo so, c'è, regà, Nat Ghibba, perfetto, cioè il Nat Ghibba è per questo bagno regà, Nat Ghibba, tu c'hai capito qualcosa? No, un cavolo. No, un cazzo, lo state chiedendo in tantissimi, facciamo, vi faccio vedere una cosa, facciamo, io debba mettere questi calzini nel mio nuovo Nat Ghibba, no? La già è perché in tantissimi stanno scrivendo, ma come lo aprite? E come fai? E' difficile in effetti, no? Allora tu fai così, guarda, prendi lo corrente, regà, non me fregate, il Nat Ghibba.